Il taglio è fantastico finché Per fortuna c'è ribellato Medical Group Ultimo testo, no? Prima di andare in Francia Questo Giappone è stato ostico fino a 10 minuti dalla fine Forse la vittoria è un po' esagerata nel punteggio Sì, comunque noi sapevamo che sarebbe una partita così, dura Suggare a 10 minuti al 100% con un caldo veramente pesante Loro sono una squadra che venivano a fare un paio di sconfitte con Ross O forse che non potevano giocare con 10 contro 11 Quindi avevano qualcosa da dimostrare Penso che è stata una buona partita E noi siamo tenuti fino a fine Finché siamo riusciti a prendere questa differenza Che a fine si ha visto nel risultato E niente, siamo contenti con la partita fatta Sempre il corso dei milionari Ma adesso a pensare nel mondiale che manca poco È un obiettivo che abbiamo noi, molto importante per noi Dopo quello che hai passato Finire questi test davanti al tuo pubblico A Treviso con questa bella vittoria Mi pare che sei un bel aspiccio anche, no? Sì, la verità è che dopo un paio di mesi duri Tornare qua, all'estadio dove uno gioca sempre È sempre una felicità immensa E forse è una partita delle migliori che ho fatto Però sento comunque come mi ha risolto tutto il stato Tutto il pubblico La verità sono le parole di ringraziamento Come vi sentite arrivando verso il mondiale Fisicamente e mentalmente? Penso che abbiamo fatto una lunga preparazione E che stiamo arrivando veramente preparati A questo mondiale Quanto fisico, anche lo tattico Abbiamo fatto un lavoro duro Ma penso che anche come unione del gruppo Lo vedo un gruppo tanto unito, tanto forte E quello sarà importante E se vogliamo fare la storia per l'Italia Per quello che vogliamo, no? Sì, tutti gli avanti del Benetton Quest'Italia, insomma, è vostra Sì, non sono tutti gli avanti del Benetton Comunque ci sono ancora Ci sono tanti Un paio del Sebre Un paio che ci vanno fuori Però ci controlliamo bene Abbiamo tanta bella relazione tra noi E la verità è che stiamo bene insieme E quello è importante Per far riuscire a portare la parte Anche perché siamo giovani E abbiamo tanto davanti E ci siamo costruiti adesso E l'Italia sarà Per tanti anni Sarà una squadra competitiva A livello nazionale La mischia come l'hai vista? La mischia oggi La verità è che è un'aggettivo Per fare un pochino meglio È andato bene, no? Non abbiamo perso mal calcio Penso se non è pari Però Volevamo mettere loro un po' più in difficoltà Che non siamo riusciti Siamo stati lì E' andato colpato E' andato bene e male di qualità Per arrivare fuori Però non abbiamo riuscito A mettere le difficoltà In quella formazione là Però penso che è un saldo positivo Che è andata giusta Adesso vi aspetta una miglia Sì, comunque noi sappiamo Che stiamo lavorando noi La conoscete? Conosciamo, sì La stiamo studiando Però noi stiamo lavorando Nel nostro gioco Ogni volta ad essere più efficaci E a mettere meno errori Perché è l'unica maniera Che abbiamo per compiutere Mentre un squadro migliore del mondo E variando ogni volta in meno Facendo la nostra cosa fatta bene Prendendo ogni azione come l'ultima E per me è buona decisione Non vedo ghiaccio né niente Quindi stai bene? Sì, è solo una volta Su un tendine di Achille E ti ha un po' male Quindi non mi lasciavo correre tanto E il tecnico ha deciso Di aiutarlo fuori bene Perché non stavo correndo Correndo E non mi sapevo che Sarevo la squadra entro in campo Però sto bene Mi avete doppiati Ma fino a 10 minuti dalla fine Stavate un po' soffrendo No, sì È stata una grande prova per noi Loro ci hanno tenuto testa fino alla fine Dopo ovviamente Quando verso la fine Il risultato è vicino La squadra in difficoltà Cerca di dare il tutto per tutto E noi siamo stati bravi Ad accogliere le occasioni Insomma Va bene comunque come risultato Anche per il morale Per partire per la Francia No, no Sicuramente È stata Penso da parte nostra Una prova Una prova E una prova di fiducia In vista del mondiale Della prima partita Contro la Nambibia Tu sei in forma? Sì, sì Sono pronto Penso di essere in forma E non vedo l'ora di giocare Cosa vi aspettate? Intanto da questa prima partita Con la Nambia Che è un po' Per noi Un oggetto misterioso Sì Beh Come ogni partita La prepareremo al meglio Come se Dando il massimo Ovviamente Non c'è una partita Da sottovalutare E niente E niente Dove dovete migliorare Diciamo In particolare Qualcosa di meglio In particolare Che ne sono Ci può sempre far meglio No, penso No, penso Sul punto di incontro Soprattutto Sì, esatto La possiamo ancora migliorare Ma Oggi È andata abbastanza bene Siamo riusciti A svoltare Comunque la partita Che era Contro l'Irlanda Che l'abbiamo subito molto E a prendere fiducia In vista Delle prossime partite In partite con fiducia Sì, esatto Poi le prime due partite Sono quelle Cioè poi Francia e Ubex Però le prime due partite Sono quelle da vincere Sì, le prime due partite Abbiamo l'obiettivo Di vincere Ovviamente Per qualificarci I prossimi mondiali E dopo E dopo Le altre due partite Contro Francia E Nuova Zelanda Di provare A fare un risultato storico Miracolo Esatto Il taglio è fantastico Finché Per fortuna Ci ha rebellato Medical Group